Benvenuti allo sfogliatopo del topolino numero 3567, il topolino dei 75 anni, i 75 anni del libretto ovviamente. In questo sfogliatopo mi sono concentrato soltanto sulla parte dei redazionari, a parte le auto conclusive sui paperi del futuro. Ovviamente come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i tuoi video caricati. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!